Pietro, si è appena conclusa l'assemblea, un'assemblea importante dove abbiamo avuto anche il rinnovo delle cariche. Abbiamo visto delle new entry nel CDA, due nuovi lavoratori che entrano nel CDA. Si conferma un po' l'atteggiamento che la Formiga dà sempre del ricambio e l'accesso ai lavoratori nelle cariche amministrative? Sì, allora il rinnovo del CDA per noi è un evenimento importante che è molto partecipativo perché comunque c'è una componente importante di almeno su 10-3 lavoratori, quindi il 30% dei lavoratori intendiamo quelli impegnati proprio in attività lavorativa, che loro fanno una pre-consultazione fra loro per definire dei tre precedenti, ne è restato solo uno, Vincenzo Saleme che si è ricandidato e è stato selezionato dagli altri lavoratori e ne sono aggiunti due, e quindi questo vuol dire un ricambio. Da sottolineare in positivo, oltre alla componente diciamo più dell'ufficio, la componente storica, quelli che comunque hanno sempre amministrato la cooperativa anche con i ruoli di responsabilità, l'ingresso di Carlo Urbinati, presidente del New Horizont, che comunque vuol dare anche sempre un completare il CDA anche con persone esterne ma vicine alla cooperativa perché comunque per portare un contributo anche di una visione di un terzo per far crescere ancora la cooperativa e per lavorare sempre in rete con altre cooperative e col territorio. Anche quest'anno, come già da qualche tempo, in cooperativa si conferma un percorso che porta i lavoratori alla partecipazione e alla consapevolezza dell'approvazione del bilancio che sono appunto le pre-assemblee. Come sono andate quest'anno? I ragazzi hanno partecipato? Sì, allora il nostro stile da diversi anni, 3-5-6 anni, è questo di fare le pre-assemblee a maggio prima dell'assemblea del bilancio in cui il CDA, parte di esso, spiega il bilancio in tutti i suoi dettagli e questo è molto apprezzato dai soci. In più quest'anno abbiamo lavorato sulla composizione appunto del nuovo CDA guardando le varie ipotesi e abbiamo anche fatto un ragionamento molto vasto sui nuovi ruoli di responsabilità in azienda, le identità relative. Questa cosa qui che era una novità assoluta ha creato comunque un dibattito molto intenso e molto acceso fra i lavoratori tanto che per la prima volta abbiamo dovuto fare due pre-assemblee, quindi abbiamo fatto una il 2 maggio e la seconda l'8 maggio. Nella seconda la cosa più bella è che comunque oltre ad accogliere la proposta del CDA che comunque ha il ruolo di determinare le proposte anche retributive, gli incarichi di responsabilità, i soci in maniera libera, i soci operativi hanno deciso di portare delle istanze in assemblea e in maniera molto democratica, perché questo per noi è una democrazia partecipata, sono state votate, alcune sono passate, alcune no, è passata per esempio una proposta che io ritengo molto corretta e fondamentale di riconoscere una maggiorazione importante agli operatori che fanno la domenica, ritenendo che la domenica, proprio perché è il giorno di festa e i festivi, sia un impegno importante per la cooperativa, la cooperativa comunque ha molti lavori la domenica ed è giusto premiare i lavoratori che si rendono disponibili di coprire quel turno. È un percorso quindi che comunque anche in sede assembleare ha portato a un livello di democrazia e di partecipazione che in questi anni è cresciuto sempre, anche quest'anno si è confermata questa tendenza. Sì, diciamo le nostre... allora intanto specifichiamo che noi ormai da 3-4 anni facciamo 3 assemblee all'anno e tutte sono molto partecipate e durano non meno di 3 ore, quindi abbiamo molte cose da dirci, vogliamo approfondire gli argomenti con tutti i soci, chiediamo proprio i soci di intervenire perché riteniamo che la partecipazione democratica sia un valore aggiunto per questa cooperativa, perché comunque vuol dire compattare la cooperativa su delle idee forti, ma soprattutto il messaggio che passa è che ogni socio si sente proprietario di questa cooperativa, è libero di dire quello che vuole, è libero di portare le istanze che crede giuste per sé e per gli altri lavoratori e sa che c'è un dibattito sempre costruttivo che alla fine delibera anche per il bene comune, per il bene della cooperativa. Questo secondo me è il risultato più importante che ci portiamo a casa oggi, tanto che siamo stati in assemblea praticamente dalle 4 e mezza alle 8, che sono 3 ore e mezza, continuata, quindi abbiamo fatto l'approvazione del bilancio, abbiamo fatto il rinnovo del CDA e abbiamo fatto anche questo tema dell'identità e dei nuovi ruoli in cooperativa e questo è stato un dibattito profondissimo, interessante, con moltissimi interventi, moltissime delibere prese dai soci e degli indirizzi chiari, precisi e vincolanti per il nuovo CDA che da oggi incomincia sul lavoro triennale e sa già del materiale su cui lavorare per il futuro di questa cooperativa. Perfetto, grazie. Grazie.